Hey yo what's good everyone benvenuti nel mio canale questo è Mauro che vi parla e oggi andiamo a reagire a Vedova Nera di Silent Bob abbiamo già reagito al disco per chi c'è stato nella live già lo sapete ci siamo spaccati di brutto perché questo spacca eh questo spacca e non poco non scherza il Bob Silente e nulla questa canzone l'avevo già sentito nel disco però ci sta il video ufficiale quindi ovviamente visto che me lo state richiedendo davvero tantissimo di fare più reaction a Silent Bob iniziamo con questa poi se volete che ne faccio altre scrivetemi il nome con il video e la andrò a fare molto presto però dai andiamo subito a vederci questo video dai vabbè va in linea eh va in linea va in linea con i suoi testi va in linea con i suoi testi eh questo ingresso spettacolare va in linea con i suoi testi direi e vorrai dirti quello a cui penso ma quello che ho dentro ti errodizza anche ma ma tu in fatti il squat quella eh mamma mia e mi chiedo se scoparci manchi tanto anche a te voglio volare in alto sempre più in alto entrare dentro il sole prenderne un pazzo scendere e portartelo anche se brucia per farti vedere che a qualcosa salvo hai quei tacchi a spillo io le pupille a spillo volevo solo togliermi uno sfizio ma alla fine ho preso il vizio di nuovo ti ho guardato dentro ho scavato a fondo ma giuro che non ho trovato nulla di buono una relazione tossica dipendenza fisica beh sto video diciamo che diciamo che però si abbina e si abbina con il testo eh si abbina definitivamente col testo eh ed è stata una casualità confermato qui eh non pensate male questione stupida io non ero unico ero solo l'unico che è caduto dentro la tua ragna te l'ho perso a te stronzo non ho più tempo da partere con una così non mi importa e io non vedo fa nera mi hai fottuto così a te stronzo non ho più tempo da partere con una così non mi importa e io non vedo fa nera mi hai fottuto bevi ne ho ragno nel mio letto mi pungeva la notte mi appunto mille volte mi ho tenuto sveglio io stupido curavo le ferite più no comunque spacca troppo eh lasciamo perdere il video a me non fanno impazzire questi questi tipi di video però la canzone spacca di brutto eh ma è forte forte davvero è forte davvero eh ma è uno stile unico diciamo eh è uno stile unico di solito o si parla di macchinoni o ci sta il rap tecnico metrico lui c'ha il suo stile unico c'ha il suo stile unico e poi è giusto comunque uno deve rappare su quello che vive cioè è inutile che ti stai inventare stronzato e tutto quanto cioè puoi inventare se sei bravo nello storytelling io direi però dai devi parlare di quello che sai più profonde non pensando ai mille tagli che mi stavano uccidendo non è rimasto nessuno a festeggiare con me lei si è scelto un apposto con me cazzo non lascia il coltello lì casualmente sul tavolo vicino al vino vabbè dai dici se mi ubriaco al massimo mi taglio le vene ah ecco vabbè ma che cazzo lascia il coltello sul tavolo ma dai non lo ha massato non lo ha massato non lo ha massato Questa è una scimmia Un'esorcista da esorcizzare Quindi niente di sto video Non c'ho capito nulla del video Non c'ho capito nulla del video Nooo che figata la fine Se li ho tagliato Il video non l'ho capito sinceramente Devo essere onesto Il video proprio non l'ho capito Però la canzone spaccava La canzone spaccava davvero Però comunque con il suo tipo di musica Diciamo noir Possiamo dirlo Diciamo che ci stava Ci stava assolutamente Se volete vi faccio altre reaction a Silent Bob Che mi sta piacendo davvero Fatemi sapere nei commenti Quale canzone devo andare a reagire E l'andrò a fare molto presto Spero che vi sia piaciuta la mia reaction Lasciate un bel like Non dimenticatevi di iscrivervi al canale E ci vediamo alla prossima Bella Ciao Ciao Grazie a tutti.